Lo stato di avanzamento dei lavori, anzi lo stato di inizio dei lavori programmati per le palestre di San Nicola e di San Lorenzo è un problema che attanaglia tanti sportivi, soprattutto in concomitanza con l'avvio delle attività agonistiche federali. Sia gli studenti che gli atleti della nostra città meritano strutture più efficienti e confortevoli. E nella nostra linea di mandato siamo partiti subito spediti con la contrazione di un mutuo per la ristrutturazione di due strutture, San Lorenzo e San Nicola alla palestra a Ginavella. Per fortuna la buona notizia è che oggi il dirigente di settore ci informa del fatto che entro la fine di ottobre sarà pronto il progetto esecutivo. La speranza, anzi l'obiettivo che noi ci proponiamo di portare a termine con efficienza e soprattutto con forza è quello di far iniziare i lavori entro quest'estate in modo da prendere due piccioni con una fava da un lato riuscire a concluderli entro la prossima stagione agonistica e dall'altro quello di riuscire a portare a termine questo progetto.